Proseguono nel centro storico le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune in collaborazione con i commercianti. Oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, sfilata di zampognari in costume tipico per le vie del centro. Nelle vie Licata, Rome e Garibaldi, animazione per bambini con personaggi Disney, zucchero filato, popcorn e altre golosità. Nell'area della Chiazza, Tombola di Beneficenza, al cura del centro commerciale naturale Spazio Centro. La sfilata degli zampognari sarà riproposta anche domani pomeriggio, mentre lunedì 25 dicembre Natale all'insegna dell'allegria in Piazzangelo Scandaliato, con lo spettacolo per bambini di clown e giocolieri dalle 10 alle 12. Venerdì 29 dicembre, nei locali della Chiesa Beata Maria Vergine di Loreto della Perriera, Tombola di Beneficenza, organizzata dall'Associazione Orazio Capurra Amore per la Vita, mentre il centro storico tornerà ad animarsi il 31 dicembre con i giochi piromusicali di fine anno e a seguire musica in Piazzangelo Scandaliato. Oggi, intanto, giornata conclusiva dell'anteprima di ritrovarsi, manifestazione artistica e culturale organizzata dall'omonima associazione, che si è aperta ieri pomeriggio con l'intervento degli artisti delle precedenti edizioni e poi in serata al Posiviri concerto di Raffaella Daino e Beatrice Lasala e spettacolo teatrale con Franco Bruno, Andrea Vaianella, Nicola Puleo e Francesca Licari, che hanno portato in scena Se muoio, sopravvivimi. Oggi pomeriggio, a partire dalle 18.30 alla Locanda al Moro, incontro dibattito con le associazioni culturali che partecipano alla manifestazione e al Posiviri ritrovarsi after movie di Nino Sabella e Line Vision, retrospettiva fotografica di Antonino Carlino, Ambra Favetta e Gregorio Andelicato e per finire il concerto dei Room Corps.